Una donna di 72 anni, Nerina Fontana, è deceduta a seguito di una brutale aggressione da parte del figlio di 45 anni, Ruben Andreoli, a Sirmione, in provincia di Brescia. Nonostante l'arrivo in ospedale, i medici non sono riusciti a salvarla a causa delle gravi ferite riportate durante l'aggressione. Ruben Andreoli è stato immediatamente arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Le autorità stanno conducendo un'indagine approfondita con un'attenzione particolare alla testimonianza della compagna ucraina del figlio, che avrebbe assistito all'aggressione. Le circostanze esatte della lite tra il figlio e la vittima non sono ancora chiare, ma sembra che sia scaturita da una discussione riguardante un possibile viaggio in Ucraina, poiché la compagna di 45 anni, desiderava tornare a casa per un breve periodo. La situazione è degenerata rapidamente in violenza e quando i soccorritori e i carabinieri sono arrivati sul luogo, Nerina Fontana era già in fin di vita e purtroppo è deceduta poco dopo il suo trasferimento in ospedale.